La Fondazione Savei ha bandito il concorso letterario Racconta il tuo Piemonte. Obiettivo del concorso è stimolare la produzione letteraria sull'identità piemontese nelle sue diverse espressioni, storica, geografica, economica, sociale e religiosa, e anche fornire un supporto operativo e linguistico a chi, abituato a parlare in piemontese, non ha mai osato scriverlo. Per la sezione Lingua Piemontese c'è in paglia un premio pari a 1000 euro. Info e iscrizioni su sito www.piemonteese.it Il materiale è da inviare alla mail concorso letterario chiocciolasavei.it entro il 31 maggio.